Un soldato dello Stato islamico, perché secondo me sono quelli che applicano la Sharia e gli Udud, cioè le punizioni scritte nel Corano, nella maniera più esatta. I soldati dello Stato islamico sono i migliori e i più fedeli alla legge dell'Islam. Noi nell'Islam abbiamo un detto, se vuoi vedere chi ha nel giusto, segui le frecce del nemico. E vedi, ora il mondo intero sta facendo guerra allo Stato islamico. Questo è Yunnes delle Fortree. Quindi, prima di convertirsi all'Islam, il suo nome era Michael. Ha 27 anni, è nato ad Anversa, da una mamma ed un papà, tutti e due belgi, tutti e due cattolici. Ho quattro sorelle ed un fratello. I miei hanno divorziato quando avevo 12 anni, mi hanno cresciuto i nonni. Mio padre lavorava 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Mia madre era arcolista. Non mi sentivo ok. Andavo alle feste, mi divertivo, facevo casino, bevevo alcol. Quando avevi 16 anni, accadde qualcosa. Leggesti un libro, vero? Sì. Il cammino del musulmano. Era un libro sull'etica. Mi sono detto, questo è come voglio vivere la mia vita. Mi ha tenuto sulla retta via. L'Islam? Sì, vedi, le persone hanno bisogno di regole, di limiti. Younes è un jihadista, ma ha la pelle chiara, è un occidentale, è uno di noi. Non è un immigrato, non è sbarcato a Lampedusa su un barcone, eppure è diventato un foreign fighter, un combattente straniero per il califato. E poi ti sei unito a Sharia for Belgium, un gruppo terrorista. Loro dicono che io sono diventato un estremista, ma io ho aderito a Sharia for Belgium perché avevo già capito che la società faceva schifo. Qui un omosessuale è libero di essere un omosessuale, invece io che sono un musulmano non posso esprimere liberamente quel che penso. A lui danno i diritti, a me mi mettono in galera. Io finì in galera, tre volte. Allora decisi di andare in Siria. Hai mai ucciso nessuno? No, non ho ucciso nessuno, no. Ma mi dispiace, se tornassi indietro, probabilmente lo farei. Quei lupi solitari, che si fanno esplodere e uccidono tanti innocenti, li condanni oppure no? Beh, potrei anche io trovarmi in un aeroporto con i miei bambini mentre sto aspettando di volare in Spagna per una vacanza. Potrei trovarmi anche io in una stazione mentre sto prendendo il mio treno come ogni giorno. Non voglio morire senza dire addio ai miei bambini. Nessuno lo vorrebbe. Ma c'è una soluzione. Smettetela di ficcare il naso in Medio Oriente e non avrete più lupi solitari. Ci sono molti lupi solitari in giro? No, ce ne sono rimasti pochi e stanno diventando tutti paranoici. Volevo mostrarti un video dell'Isis. Questo è un tuo amico? Un mio amico? Sì, è un mio amico. Di Ambersa. Come si chiama? Abu Hanifa. Era assieme a te? In Siria? A combattere? Sì. È ancora vivo? Sì, si è ringraziato Allah. Perché la realtà è questa. L'Isis fa meno morti di quelli che fanno i bombardamenti aerei e le bombe a grappolo di Bashar, degli americani e dei russi. Cosa sta dicendo nel video? Dice che la gente è felice. Ci attaccano ogni giorno ma la gente sta bene. Ed è vero. Quando c'è un attacco piangono anche quelli dell'Isis, sai? Prendi l'attacco all'aeroporto di Bruxelles. L'ha fatto un lupo solitario. Ci sono stati un po' di morti e i belgi ne parlano un anno intero. Blah, blah, blah. Ne sono morti dodici, ok? Magari sono dodici morti di troppo. Ma stanno a piangere un anno. Lo sai che dodici morti li hai in soli cinque minuti di guerra in Iraq? Se laggiù la nostra gente facesse quel che fanno tutti qui, le lacrime in Iraq sarebbero esaurite. Guarda quest'altro video. Si intitola Uccideteli dovunque essi sono. È un verso del Corano. Uccideteli ovunque essi sono. Questi sono quelli che hanno fatto gli attacchi di Parigi. Sparare un colpo in testa ad un uomo legato per te non è un'esecuzione crudele barbara? Ma se muori in un secondo. Se vuoi controbattere lo strapotere dei media internazionali devi fare qualcosa di forte. Devi fare sensazionalismo. Altrimenti il tuo messaggio non passa. Viviamo in un tempo in cui l'eccentricità è il nuovo standard. Tutto quel che è normale non funziona più. Ah, questo video è eccentrico secondo te? Certo. È potente e manda un messaggio chiaro. La gente è terrorizzata da quel video. La gente è scioccata. E così, missione compiuta. Se l'intera comunità internazionale è contro di te, devi fare qualcosa per mostrare chi sei. No? Il tuo sogno sarebbe di avere la Sharia in Belgio oppure in Europa? No, in tutto il mondo. Perché sarà meglio per tutti. Per creare lo Stato Islamico abbiamo bisogno della guerra. Mi spiace molto ma è così. Non puoi conquistare il mondo e cambiare una società con i fiori ed il miele. Sì, sincero. Saresti pronto a diventare un lupo solitario? A farti saltare in aria? Tu mi fai questa domanda e io ti rispondo così. Se io sto pianificando un attentato, non vengo certo a dirtelo in tv. Capisci? Questa è la mia guerra. È la mia guerra ora.